Allora, siamo arrivati al quinto concorrente. Elisa Alessio mi ha spedito? Velocissimo. Valerio Carbonelli con Una Vosia per te di Elisa e viene da Roma. Quinto concorrente in gara. Vai. Perché tu sia felice, piangi lacrime di aria, lacrime invisibili che solamente gli angeli sanno portar via. Ma cambierà stagione, ci saranno nuove rose, ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia. Ci sarà, forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te. Questo nodo lo sciolga al sole, come sa fare con la neve. Ci sarà, dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia. Ci sarà, forse esiste già al di là dell'orizzonte una poesia anche per te. Anche per te, solo per te. Per te. Per te. Bravo. Che eleganza soprattutto. Salutiamo anche mamma. Elegantissimo. Che si era anche commossa. Ciao. Ma bravissimo. Senti, ma questa canzone chi l'ha scelta? Mamma, la tua maestra di canto, che piace anche un po' a mamma questa. Eh sì, diciamo le cose come stanno. Grazie, questo è un ricordo per te. Grazie. Ciao. Bravissimo. Dove vuoi. Meraviglia. Grazie.